A voi! Voi che passate da un'orgia all'altra, che avete il bagno e il gabinetto caldo, non provate vergogna a leggere sui giornali le proposte per la croce di San Giorgio? Sapete voi, incapaci, numerosi, voi che pensate al modo di rimpinzarvi meglio, che forse orora una bomba ha dilaniato le gambe del tenente Petrov? Se egli, condotto al macello, vedesse un tratto crivellato di ferite, come canticchiate lascivi severianin, con il labbro unto di cotoletta, a voi dunque, amatori di donne e di pietanze, dare la vita per farvi piacere? Piuttosto nel bar servirò alle puttane, succo da nanasso!